venivamo da un periodo da un periodo brutto la partita però l'abbiamo interpretata sicuramente subito molto bene come abbiamo avuto subito parecchie occasioni io personalmente avevo avuto almeno due o tre nel primo tempo che ricordo nitide dove non siamo riusciti a fare gol anche se avevamo schiacciato l'alessandria nella loro metà campo quando abbiamo sbloccato il risultato sulla punizione è stata una liberazione per tutti siamo siamo corsi verso la panchina per condividere la gioia con i nostri compagni e con l'allenatore che non aveva passato neanche una settimana tranquilla perché tessera un allenatore che comunque è un grande comunicatore parlava molto durante la settimana mentre quella settimana non disse una parola quando eravamo in vantaggio dopo il gol ricordosi di un salvataggio sulla linea per mi ero mi ero trovato lì quindi ero ero riuscito anche a salvare a salvare quella palla sicuramente è stato se non il più importante uno dei gol più importanti che che ho fatto nella cremonese più che altro perché poi alla fine risultato decisivo per la vittoria del campionato essendo arrivati a quali punti quindi sicuramente ricordo quella partita con un piacere e spesso con i miei compagni che parliamo ricordiamo e rivediamo anche a volte le immagini di quella partita